Ok, io non voglio installare un plugin dedicato, ho già magari un plugin, oppure voglio direttamente installare solo il codice di monitoraggio nudo e crudo così com'è, quello script che mi dà Analytics, senza magari dedicargli un plugin. Ora normalmente lo si può fare o all'interno, quindi riapro la giusta schermata, questo qui la eliminiamo, andiamo di nuovo sul nostro back end del nostro sito, ora dipende dal tema che voi utilizzate, se ci sono dei temi che vi diano l'opportunità di modificarne l'autocodice o perché avete installato un child, un classico tema riprodotto per un tema figlio, per poter effettuare delle modifiche all'autocodice, allora voi lo trovate di solito nelle impostazioni del tema, quindi questo dipende davvero dal tema, ogni tema ha le sue visualizzazioni grafiche e quindi dipende un po' da questo. Ad esempio se io faccio dettagli del tema, che è quello che io ho installato, volendo andare su una parte dove posso modificare il tema, ad esempio questo tema è free, di altra vista non mi dà l'opportunità di modificare il codice. Quando è questo il caso, allora cosa possiamo fare? Sicuramente ci verrà in aiuto un plugin che si chiama tracking code manager, questo plugin probabilmente vi servirà anche per altri codici o di monitoraggio o vari script per attivare magari dei pop up o dei servizi esterni che sicuramente in futuro utilizzerete. Cosa vi dà questo plugin? L'opportunità di aprire delle porzioni in bianco, a seconda anche della pagina o degli articoli dove vorrete attivare o anche in tutto il sito, quindi site wide si dice, dove poter inserire dei codici che attivano le funzioni desiderate. In questo caso la funzione desiderata è il codice di monitoraggio e quindi tracciare le visite al nostro sito web. Quindi clicchiamo sempre su install adesso, io adesso questo qua ce l'ho già attivo perché ho altri codici installati che non siano analytics, però clicchiamo sempre su install adesso, teniamo sempre conto del fatto che ci siano le recensioni, le installazioni attive, quindi è questo qui a sinistra, a destra, questo qui, data 443, ok? Da non confondersi con questo header, footer, perché questo si limita nella parte altissima o nella parte basissima del sito, mentre questo a destra vi permette anche di gestire, di inserirlo magari nel body, un codice. Dopodiché clicchiamo su attiva e dopo averla attivato dovrebbe portarvi nella lista dei plugin. Sulla lista di plugin, visto che ci troviamo a questo punto, noi dobbiamo disattivare per far vedere correttamente questa prova, Master Insights, quindi noi lo troviamo con Google Analytics for WordPress by Master Insights. Perché? Perché se ci sono due o più plugin che attivano la stessa funzione, sicuramente andrà qualcosa in conflitto, ok? Quindi in questo caso non tanto è il conflitto tra plugin il problema, ma se installiamo sia il codice di monitoraggio, che adesso faremo insieme, con 3KeyCount Manager, e sia lasciamo attivo Master Insights, voi è come se aveste installato due volte Analytics, quindi ogni visita ve la conteggia due volte, ok? Ecco perché bisogna sempre solo attivare una volta solo. Disattiviamo Master Insights, ovviamente dice, ho una disattivazione temporanea, possiamo scegliere qualunque opzione. Vi rientra sui plugin installati. Se non dovessi succedere, noi andiamo su plugin installati, a sinistra. Clicchiamo su Settings di Tracking Code Manager. Ok, quindi scrolliamo, eventualmente se abbiamo più plugin, lo troviamo. Questo qui lo eliminiamo, infatti è quello precedente. Dovreste poter vedere questa schermata, non avendo nessun codice, vi dice, guarda, inizia a crearne uno, cliccando qui. Quindi clicchiamo qui, per creare nuovi. Diamo un nome, quindi Google Analytics. Magari gli mettiamo un WA per tracciare, giusto per far capire a cosa viene associato, volendo. Possiamo anche farlo. Apriamo la schermata di Analytics, dove abbiamo conservato questo codice, lo selezioniamo, lo copiamo e lo incolliamo in questa schermata nera all'interno di Tracking Code Manager. Andando in basso, dobbiamo scegliere dove posizionare questo codice. Ovviamente noi dobbiamo posizionarlo in alto, quanto più in alto possibile. Come lo si fa? Qua ci sono tre scelte. Ovviamente lasciamo la scelta before add, quindi prima dell'header, dei tag header di una pagina. Noi possiamo anche decidere di mostrare questo codice ovunque, quindi lasciare all, o per vari motivi magari potreste poter scegliere in futuro di creare delle proprietà differenti a seconda se le visite arrivano da desktop o da mobile, per dire. Però io lascerei sempre così e poi attiverei dei filtri dentro Analytics. Dove vuoi aggiungere questo codice? Standard Code Tracking in your WordPress. Ovviamente non abbiamo un e-commerce, quindi scegliamo la prima e scegliamo poi l'opzione che si attiva successivamente con in quale pagina vuoi inserire questo codice. Ma non è una pagina specifica, è nell'intero sito. Quindi in the whole website. In tutto il sito. Non ci deve sfuggire nulla delle visite arrivate sul nostro sito. Andiamo in basso, clicchiamo su Save. e abbiamo attivato la seconda modalità di installazione di Google Analytics e lo abbiamo collegato. La terza modalità che vediamo è tramite Tag Manager. Quindi, adesso cosa facciamo? Andiamo su Google di nuovo e scriviamo Google Tag Manager in modo tale da crearci un account. Immagino che molti di voi non abbiano un account in Tag Manager. Cliccando su Tag Manager dovreste anche qui poter vedere questa schermata. Loggatevi sempre su Gmail, se non siete loggati è ovviamente di base. Configurazione dell'account e scegliamo un nome account, un po' come abbiamo fatto con Analytics. Ok? Quindi in questo caso scriviamo sito Jardine Express Paese Italia Condividi dati inanimamente, io lo lascio disattivo. Nome del contenitore Possiamo scegliere di mettere o l'intero dominio o l'intero sito web oppure un nome identificativo. Incollo e dice Ok, l'ome non può iniziare con né con un carattere riservato. Va bene, noi togliamo tutto l'https due punti slash slash e lasciamo magari solo questa indicazione del dominio. Piattaforma di destinazione sceglieremo web visto che si tratta di un sito web. Clicchiamo su Crea Anche qui dobbiamo accettare i termini di servizio in inglese non c'è l'italiano quindi rimane in inglese clicco su accetto in basso a sinistra e poi in alto a destra clicchiamo su sì ecco qui ora avendo già tracking code manager noi volendo possiamo anche installare tag manager nel nostro sito web attraverso la creazione di due tracking code manager ovviamente dobbiamo disattivare quello precedente quindi volendolo fare tramite tracking code manager basta replicare quello che abbiamo fatto prima con analytics però quello lo disattiviamo ovviamente questo ce lo avviciniamo e vediamo che possiamo farne due uno perché lo inseriremo prima del tag head esattamente riproducendo quello che abbiamo fatto prima con analytics di